Ci troviamo a San Basilio, nel luogo in cui fino a poche settimane fa sorgeva una bocciofila completamente abusiva. Vi abbiamo fatto vedere l'inizio dei lavori di demolizione e oggi quest'area è completamente sgombera da cose e stiamo già lavorando insieme alla Federazione Italiana Sport Rotellistici per realizzare proprio qui una pista di pattinaggio e un pump track, cioè un percorso per biciclette con dei dislivelli. Chiaramente adesso siamo nella fase del progetto tra il definitivo e l'esecutivo, dovranno essere stanziate le somme e poi si comincerà la gara. Insomma sicuramente non mettiamo questo luogo di nuovo in uno stato di abbandono, ma anzi realizziamo qualcosa che possa rappresentare un'attività per tutti i ragazzi e i giovani del quartiere.